A me fa ridere, poi non so se fa ridere solo a me oppure no, ma stanotte alle 5 di mattina giocheremo contro il Civas in America Civas che vi leggo proprio da Wikipedia, il club deportivo Guadalajara, conosciuto più comunemente come Civas Benissimo, è una società sportiva in Messico, conosciuta soprattutto per la sezione calcistica che milita nella massima serie del campionato messicano di calcio Fa abbastanza ridere iniziare un torneo estivo contro questa squadra per poi affrontare Real Madrid e Barcellona Insomma diciamo che c'è un picco di ignoranza per quanto riguarda il livello delle squadre, non indifferente Sapete già che non vedremo la partita in live reaction questa notte per causa di forza maggiori perché non sarò disponibile Però proverò a recuperarla e domani vorrò raccontarvi un po' questa gara Tra l'altro Allegri ha fatto già una conferenza stampa pre partita, non sono riuscito a trovarla da nessuna parte Per ascoltarla l'ho soltanto letta, riportata da Gazzetta dello Sport, quindi Giovanni Albanese e Fabiana della Valle Due firme di cui mi fido, quindi sono abbastanza consapevole nel dirvi che questo virgolettato che vado a riportarvi E cioè abbiamo il dovere di vincere lo scudetto, possa essere molto attendibile E wow, dovesse essere vero un virgolettato simile ragazzi, Allegri si è sbilanciato Perché dire che la Juventus ha il dovere di vincere lo scudetto sono parole forti Attenzione, non sto dicendo che non sia così Io sono dell'idea che la Juventus tutti gli anni debba partire con la convinzione di rientrare all'interno della lotta scudetto Infatti la cosa che mi ha dato veramente fastidio delle ultime due annate è stata proprio questa non aver vinto Capita, succede ragazzi, nello sport succede di non vincere Ma il fatto di non essere mai stati un avversario pericoloso né con Pirlo né con Allegri Mi fa infuriare Mi fa infuriare perché non posso pensare a una Juventus che è la squadra col monte e ingaggi più alto in Italia La squadra con più vittorie nel campionato italiano La squadra che ha speso anche più di tutte le altre negli ultimi anni per forza di cose Anche legati, soldi, investimenti legati ai risultati sportivi Certo, ma passare da un dominio assoluto di nove stagioni all'interno del campionato italiano a due anni in cui nemmeno ci provi È un po' come passare dal Chivas al Real Madrid e Barcellona Mi sembra lo stesso salto Quindi dovere di vincere lo scudetto se dovesse essere stata davvero questa testuale parole di Allegri Ragazzi, si mette nei guai da solo perché se poi non vince una dichiarazione del genere torna fuori Poi io sono sempre speranzoso, ovviamente tutti gli anni che la Juventus va a far mercato Tutti gli anni che la Juventus cerca di migliorarsi, soprattutto in questa stagione dove sta investendo tanto Dove sta facendo un buon mercato E a tal proposito vi ringrazio perché il video di ieri Quello in cui vi illuminavo con i numeri, le tabelle, le rose a confronto È andato molto bene, ma soprattutto ci sono stati dei feedback tremendamente positivi Non mi ricordo, ne avrei mai visto un mio video con così tanti complimenti, commenti positivi Quindi veramente grazie danno una carica e un'energia che voi non avete idea Proprio la voglia di creare questi contenuti un po' diversi, un po' più tecnici Cose che difficilmente si trovano su YouTube Italia Perché? Perché ragazzi, adesso anticipo un punto che sarà successivamente Cosa funziona, no? Sul web, sui social I nomi, cioè la voglia di far vedere Compriamo Neymar, compriamo Messi, compriamo Mbappé, compriamo Ronaldo, compriamo Pogba, compriamo Lewandowski Questo è la cosa che fa Ragazzi, mi piacerebbe potervi dire che la Juventus sta preparando un'offerta per Frenkie de Jong Mi piacerebbe tantissimo Vai a mettere un giocatore fantastico in un reparto che danni il tuo punto debole Insieme a Pogba, beh, creare veramente qualcosa di incredibile Non posso dirvelo, almeno posso dirvelo ma mi prenderai in giro E quindi ve lo dico tranquillamente Ora ci sarà una fase di stallo chiave mercato Ma cosa significa lo stallo chiave mercato? L'abbiamo visto anche ieri Cioè i numeri, gli elenchi, mettere giù, carta canta Ci dimostra quella che è la situazione della Juventus La Juventus ha fatto tre acquisti in questo momento, perfetto Ora deve concentrarsi sulle cessioni Finché non cede, finché non escono dei calciatori La Juventus difficilmente farà dei colpi in entrata Non significa che la Juventus non lavorerà sulle entrate La Juventus ha in mente quella che deve essere la rosa Sa benissimo quelli che devono essere i colpi da fare Io vi ho detto la mia, ma è la mia umilissima opinione Un difensore e due attaccanti Poi magari la Juve prende zero difensore e tre attaccanti Quattro difensori e un centrocampista Due centrocampisti e tre difensori Tre centrocampisti e quattro attaccanti Non lo sappiamo qual è l'idea della Juventus Secondo me ci saranno altri tre colpi Ed eventualmente uno a centrocampo In caso di sfoltita abbondante al reparto Però io non ho informazioni, io non ho notizie Io non voglio illudere nessuno Non voglio dare la possibilità a qualcuno di credere in qualcosa Nella quale nemmeno io credo perché non ho notizie Io cerco di fare il mio Rimango nel mio orticello Vi dico le cose come stanno Secondo me come si evolvono A seconda anche di come si è comportata la stessa società in passato E quindi anche l'anno scorso andare a fare un confronto Con quella che era la lista Champions E quella che potrebbe essere oggi la lista Champions Come abbiamo fatto ieri E quindi dato che si parla di cessioni Si parla di stallo In entrata finché non si cede qualcuno Finalmente Ramsey che è uno dei problemi Che abbiamo visto ieri evidenziato numeri alla mano È vicino alla recessione consensuale del contratto E questa è un'ottima notizia Perché la Juventus non ha più la facoltà Di investire una decina di milioni di euro ogni anno Per Auro Ramsey Tra l'altro mi fa ridere perché Si diceva all'epoca Della finale di Europa League Se Ramsey vince l'Europa League Dovrebbe esserci questa clausola Secondo la quale poi i Rangers saranno obbligati A riscattarlo E i Rangers perdono la finale di Europa League Proprio con un errore di Auro Ramsey dal dischetto Quindi il calcio che cosa fantastica E incredibile E quindi Ramsey si ritrova a sudare Con la casacca della Juve Per via di un suo errore dagli 11 metri Che va a distruggere i sogni europei Di una squadra che avrebbe festeggiato probabilmente per sempre E fa vincere Kostic Che è stato uno dei nomi sul mercato Vedete come tutto si intreccia Poi Kostic Secondo me rimane un nome secondario In questo momento un nome che è da tenere lì monitorato Ma difficilmente verrà utilizzato ancora in chiave mercato Poi provo a mettervi una clip di una live che ho registrato ieri In cui vi spiego anche il perché Secondo me dico questo Attenzione che invece Fagioli verso il rinnovo Perché ragazzi Fagioli lo sappiamo Ha un anno di contratto poi scade E quindi bisognerà capire che cosa fare con il ragazzo Preso il 44 E ieri gli ho scritto su Instagram Scusa ma hai preso il 44 Come numero provvisorio Perché ancora non si sa se rimarrà l'eventus Se rimarrai prenderai l'8 Perché 4 più 4 fa 8 Si è messo a ridere In DM su Instagram E poi non mi ha più risposto E gli avevo detto Ma ridi perché ho indovinato O ridi perché non capisco niente È probabilmente la seconda A questo punto Però mi sembrava tutto così Perfetto Incastrato alla perfezione Vabbè Niente E attenzione invece Ad Artur Altro nome colossale Nella tabella che abbiamo visto ieri Forse il nome più problematico per la Juventus L'Arsenal starebbe prestando un prestito Addirittura con obbligo di riscatto Fosse vero Dio lunedì il mio compleanno Arsenal fammi questo regalone Pigliati Artur Portatelo via 30 milioni è tuo Te lo giuro E attenzione che se dovessero uscire Sia Ramsey che Artur E poi bisognerà capire cosa fare con Fagioli, Rovella E compagnia cantante Però Paredes sembra essere un nome nella lista della Juventus Quindi il centrocampista che potrebbe entrare di fronte a tante eccessioni Mi dispiace illudervi con Milinkovic Savic Mi dispiace E torniamo al discorso di prima Mi piacerebbe potervi dire che la Juventus sta trattando Milinkovic Savic Se lo tratterà sarò contento di parlarne Sarò contento di esaltarmi Abbiamo già fatto anche un'analisi tattica e tecnica Su Milinkovic Savic Giocatore che mi fa letteralmente impazzire Vado in brodo di giugiole quando lo vedo giocare Pensare di avere una Juventus mi emoziona Però sembra Paredes Il nome caldo eventualmente per la Juventus sul fronte ingresso E quindi vediamo che cosa succede Ora non aspettiamoci giornate calde Con arrivare a continuare a visite mediche e quant'altro Perché appunto la Juventus è intorno in America Tra l'altro c'è Agnelli Arriva bene Cherubini e Nedvede Invece arriva bene ancora in Italia Insieme a Cherubini No probabilmente tutti e due dovrebbero essere ancora in Italia Per svolgere un po' di lavoro qua in Italia Per poi aggregarsi alla squadra in America il prima possibile Comunque è iniziato ufficialmente il precampionato della Juventus Mancano pochissime ore Sono le 10 quindi 19 ore all'esordio ufficiale Un precampionato contro una squadra Che non sia una squadra dilettantistica Che fa la partita alla continanza Quindi giocheremo proprio con le maglie Magari già con la seconda Che è andata Visto sold out completamente Quasi completamente Sono rimaste alcune versioni autentiche Basta Sul sito da Juventus A tal proposito Io l'ho già presa L'ho già mandato a prendere subito e immediatamente Tal proposito Vi chiedo Siete curiosi di sapere la differenza tra authentic e replica Replica intendo quella che vendono replica Sul sito Sull'Uventus Store Perché alcuni mi hanno fatto questa domanda Anche nei commenti L'avevo spiegato un po' su Twitter Ma poi magari qualcuno non ha Twitter E allora potrei creare uno shorts Un reel Qualcosa Un video TikTok Per spiegare le macro differenze Queste erano un po' tutte le cose da dire Vi lascio con la clip Tecnico-tattica Per quanto riguarda il 4-3-3 di Allegri E noi ci vediamo Magari già nel pomeriggio Con un altro video Dovesse uscire qualcosa Ma ribadisco In questo momento sono abbastanza tranquillo Sul fatto che Che ci sia un po' di respiro Chiave calcio-mercato Diciamo così Questa è La formazione 4-3-3 Che dovrebbe essere bene o male Quella che potrebbe utilizzare La Juve L'anno prossimo Ok Cerchiamo di mettere I giocatori Nei punti In cui sappiamo Che andranno a giocare Non so scrivere Vlaovic Vlaovic Ok Di Maria A destra Ok Zaccaria o McKennie Io metto Zaccaria Ma poco cambia Pogba sul centro-sinistra Locatelli Davanti alla difesa Quadrado qua Perché abbiamo visto Allegri Provare Quadrado Principalmente Bonucci Bremer Che immagino giocherà Sul centro-sinistra E qua Volenti o nolenti Alexandro O Pellegrini Dai mettiamoci Pellegrini Per dovere di cronaca Però Allegri ci ha già provato Sandro Cesni in porta Ok E qua Federico chiesa Ma finché non torna C'è un bel punto interrogativo Allora Ragionando su quello che è Allegri Ok Cioè su come ha sempre ragionato Allegri Qua Ci potrebbe benissimo giocare Ken Per un motivo Quando si va in fase di non possesso Si allargano i giocatori Si formano il 4-4-2 E tu hai a disposizione Il 4-4-2 Solitamente A sinistra Allegri ci tiene Una sorta di attaccante Ed è per questo Che anche Morata L'anno scorso Faceva questo ruolo E anche Morata Rimane un nome Sul tacquino Della Juventus Forma il 4-3-3 Con Morata Largo a sinistra Esattamente Come ha fatto Questa può essere Un'ipotesi In alternativa Questo giocatore Oltre a Ken Oltre a Chiesa Perché anche Chiesa stesso Ragazzi Allegri te l'ha detto Lo vede meglio a destra Però Ti ho anche detto tante volte Che secondo lui Il futuro di Chiesa È il centro avanti E in questo caso Andresti a difendere In questo modo qua Ok A me preoccupa sempre Un po' di Maria qui Però Allegri Ha dimostrato che La soluzione alternativa Ok Ne parlavamo anche L'altro giorno con Davo Davo mi ha detto Guarda io non sono preoccupato Per la fase non possesso Semplicemente Non possesso 4-5-1 E può essere Anche se in realtà Allegri ti ha sempre Fatto difendere 4-4-2 Però Può essere Può essere In alternativa C'è anche La possibilità Di schierarsi a Rombo E allora qua viene fuori Il nome di Zagnolo Perché il nome di Zagnolo La Juventus Ha già giocato con il Rombo Il primo anno di Allegri Ok Qua c'era Vidal Per intenderci Potrebbe essere A formazione di questo tipo Con Zagnolo Trequartista Ok Che semplicemente Si allarga sulla destra In fase di non possesso E si mette qua In modo da non dover Permettere a De Maria Di fare L'esterno Rimane davanti Con Vlaovic Rimane lì Rimangano di fianco Tutto perfetto Pogba Il centro-sinistra L'ha sempre fatto In fase di non possesso Locatelli e Zaccaria A fare la diga Zagnolo A destra Che è il suo ruolo Quindi Vi dico la verità Questa Formazione Potrebbe essere L'ideale Quindi Io difficilmente L'ideale Per quello che Ci ha mostrato Allegri Ovviamente Poi potrebbe essere Anche così Un albero di Natale Una sorta di albero di Natale Anche se in questo caso Poi Zagnolo dovrebbe fare Un po' più strada Cioè È un po' più difficile Invece così Secondo me È abbastanza l'ideale Perché Non c'è niente da fare La formazione è già fatta Cioè È tutto diagonali Praticamente E difendi tranquillamente Voi mi dite Però Potrebbe essere Che la Juventus Mi vada a prendere Kostic Perché è un giocatore Che mi gioca Esterno-sinistro Nel 4-3-3 Allora abbiamo visto Che Chiesa lo può fare Morata lo può fare Che lo può fare Kostic Mi puzzerebbe un po' Perché poi La fase di non possesso Andrebbe a diventare questa E non mi torna Non mi torna Per quello che ci ha fatto vedere Allegri È ovvio che Poi potrebbe tornare Semplicemente Così Abbassando Kostic e Di Maria Sulla linea I centrocampisti E andando a difendere Con una sorta di 4-1-4-1 Questo Potrebbe essere Benissimo Un modo di difendere Però Il nome di Kostic Mi torna un po' meno Rispetto al nome di Morata O al nome di Zagnolo Perché ti apre la possibilità A due strade interessanti Come Il 4-3-3 All'Allegri O il Rombo All'Allegri Ed essendo Allegri L'allenatore della Juventus Credo che si possa ragionare Su una di queste due possibilità qua